Sabato 8 novembre 2008 Noi e la notte.t presenta House Story Presso il Ketumbari Via Galpani 23 Zona Testaccio Roma Due sale aperitivo e dance I migliori dj Le migliori animazioni della capitale Dj set Vibes Stefano Bracco e Salvo San Giorgio Vocal Head Lady Julie e Mr. Damiano Il primo appuntamento vintage è di Noi e la notte.t per infotavoli 393 392 347 o www.noialanotte.t